E qui abbiamo il fallimento delle sinistre contemporanee, della sinistra contemporanea che forse potremmo definire come sinistras per sottolineare il carattere per certi versi anche tragicamente patetico, la sua incapacità di parlare la lingua dei lavoratori e dei ceti popolari, il suo aderire goffamente alla neoliberalizzazione progressista del mondo della vita. La destra non ha mai prodotto la lotta contro il capitalismo in nome del socialismo, la sinistra l'ha fatto e per questo risulta oggi che abbandona quella prospettiva ancora più ridicola per certi versi rispetto alla destra stessa. Si potrebbe dire questo con le parole dei sonetti di Shakespeare, orribile più di quello delle erbacce e l'odore dei gigli sfioriti, no? E questa è una descrizione credo abbastanza precisa di quello che la sinistra è divenuta abbandonando ciò che era, rimuovendo ciò che era e facendosi guardia fucsia della globalizzazione neoliberale. Come ha scritto Jean-Claude Michéat, già citato, è la patetica incapacità di assumere la dimensione conservatrice della critica capitalistica, a spiegare in larga parte il profondo smarrimento ideologico, per non dire il coma intellettuale irreversibile, in cui l'insieme della sinistra è oggi immerso. Bisognerebbe quindi reagire a questa new left amica del progresso e quindi inevitabilmente della globalizzazione capitalistica, bisognerebbe contrapporle la sintesi Gramsci-Pasolini. Gramsci per il nazionale popolare, l'idea dell'andare al popolo e saldare tra loro un'istanza di populismo radicale e di anticapitalismo socialista. E da Pasolini, che peraltro aveva difeso a suo tempo i contadini friulani e i lavoratori napoletani sotto l'insegno del populismo, bene, da Pasolini dobbiamo desumere l'esigenza della ricerca di una emancipazione che non coincida con il progresso, e anzi che all'occorrenza sappia conservare contro il progresso. Questo è il compito più difficile per la composizione di un partito del basso contro l'alto, come si diceva. Bisogna evidentemente lavorare su questo tema, anzitutto procedendo a un arduo tentativo di ricartografare la realtà esistente. Le vecchie mappe non ci aiutano più, anzi sono palesemente utilizzate con lo scopo opposto, quello di impedirci di comprendere ciò che sta avvenendo. Dobbiamo liberarci delle vecchie mappe, ma per non precipitare in preda a un'assenza di coordinate, dobbiamo elaborarne contestualmente di nuove. Questa nuova geografia della politica che abbiamo provato per sommi capi e senza alcuna pretesa di esaustività a tratteggiare in quest'ultima lezione potrebbe essere forse una prima approssimativa pista per ripensare il nostro presente e per provare a pensare, a praticare quello che a ben vedere resta la missione fondamentale della filosofia, cioè produrre la fuga dalla caverna platonicamente, produrre la sintesi di verità e liberazione che poi è il cuore stesso del messaggio della caverna platonica.